Questa nuova cartuccia è l'Official HV in vari tipi di piombo, sostituisce la 4HV che già era un'ottima cartuccia. Questa è stata pensata e studiata con prodotti innovativi per maggiori performance. Provandola veramente abbiamo riscontrato che effettivamente è eccezionale. In condizioni anche climatiche come questo, questo mondiale, abbiamo visto dei risultati veramente eccezionali. Questa che vedete è l'Official HV del piombo 7, un piombo bronzato, studiato per i tiri lunghi. Anche in questo mondiale l'abbiamo collaudata veramente con risultati ottimi. Questa è la cartuccia più usata per i timi medio-lunghi. Provandola abbiamo visto dei risultati, ma a parte ottimi, ma provandola anche in placca per vedere le rosate, la compattezza delle rosate. Io veramente sono rimasto impressionato dalla compattezza, dall'impatto, dalla velocità di questa cartuccia, perché è stata fatta con dei studi particolari, con prodotti innovativi, ma veramente con risultati eccezionali. Questo ve lo posso garantire. Questa che vedete invece con la scatola che si differenzia dal colore verde è l'Official HV col piombo e mezzo, studiata per i tiri corti, dove la rosata deve essere un pochino più ampia, un pochino più larga. Naturalmente i componenti interni sono diversi dal contenitore al tipo di piombo. Viene studiata appositamente per i tiri corti. Comunque è una cartuccia molto usata, con una velocità molto alta, che permette questa famosa rosata, nel gergo nostro, di farla in una maniera migliore. E' veramente anche questa ottima, ottima veramente. Queste cartucce sono arrivate adesso, sono le ultime. Ho sentito dei commenti di tutti i tiratori nostri, che sono ben 14, su 24 nazionali ben 14 sono Fiocchi. Hanno tutti collaudato queste cartucce e sono entusiasti, ma forse anche qualcosina meglio. Veramente un grazie alla Fiocchi, un grazie a questo prodotto, un grazie a tutti i tiratori che la useranno.